è meglio un disco sportivo baffato o forato o magari baffato e forato non c'è una risposta valida in tutti i casi però in linea di massima possiamo certamente affermare che un disco baffato è più resistente uno forato generalmente riesce a dissipare ancora meglio il calore però ha il punto debole proprio nella resistenza infatti più facilmente si può ovalizzare con l'utilizzo soprattutto gravoso proprio per questo motivo infatti noi forniamo i nostri dischi ad esempio sia nella versione solo baffata anche il nostro logo è una sorta di baffo in effetti ma anche con altri disegni su richiesta come questo baffato e forato non c'è una risposta sempre valida per tutte le situazioni e soprattutto per tutti i tipi di auto infatti auto più pesante più prestazionali di solito non sopportano molto bene i dischi forati perché sono più delicati come dicevo prima e mi raccomando continuate a seguire il reparto corse se non avete ancora attivato la campanella fatelo perché abbiamo in serbo tanti tanti video molto molto interessanti continuate a seguirci ciao ciao